In aia di varietà, in autunno la protagonista è la zucca. Ne esistono almeno 600 varietà, 15 specie diverse, di cui solo 5 di queste sono commestibili. Tutte hanno però forme particolari e colori vivaci. Sembra crescano da nulla. Bizzarie di madre natura le zucche. La zucca cresce spontaneamente, chiaramente più hai ingrasso la zucca cresce meglio. Ho solo bisogno di un po' di acqua e per il resto cresce. La mantovana è buonissima, quella che vedi là piccolina e gialla, sono buone anche loro. La zucca è poi sempre buona. È l'arancio con le sue sfumature a dominare qui a Santa Maria Maggiore, suggestiva a località della Bavigezzo sopra Domodossola, in un weekend d'autunno. Perché protagonista è lei, è soltanto lei la zucca e non potrebbe essere diversamente, visto che in questo magico borgo, terra di pittori e spazzachemini, va in scena la quindicesima edizione di Fuori di Zucca, una kermess dedicata. Ad un frutto della terra ricco d'acqua, da sapore dolce, ma adatto a qualsiasi dieta. Santa Maria Maggiore la celebra così, tra decine di bancarelle disseminate, tra le piazzette e vicoli del suo pittoresco centro storico. Celebriamo i sapori dell'autunno. Da 15 anni vogliamo offrire un connubio tra i prodotti della terra e i colori di questa valle, i colori del foliage, quelli che cambiano in questo momento autunnale e che riempiono di poesia una valle incantevole. E quindi la zucca diventa un elemento importante della produzione degli orti. Ogni anno sono migliaia i visitatori che affollano Santa Maria per questo evento. Molti di loro provengono da varie località della vicina Lombardia e dalla confinante svizzera. Ma altrettanti arrivano anche da altre capitali della zucca, come lo è Piozzo, in provincia di Gugno. Quest'anno abbiamo seminato 600 varietà di zucche, i cui semi provengono da tutto il mondo. Noi compriamo i semi, poi li seminiamo nel nostro paese, li coltiviamo, poi li raccogliamo e durante la fiera della zucca le esponiamo sulla piazza del nostro paese in una mostra tecnico-scientifica. Una festa, quella della zucca, che offre anche diverse altre suggestioni e spunti. Dal trenino del Fogliaggio, ad esempio, un vario pinto viaggio tra i boschi vestiti dei colori autunnali a bordo di uno dei piccoli convogli che attraversano le valli Ossolane, uno spettacolo nello spettacolo. Oppure questo angolo del paese, dedicato ai giochi dei nostri noi, altro che i videogames. Questo è il gioco della pesca, l'abbiamo un po' inventato noi, realizzato del tutto artigianalmente. Vince chi riesce a pescare dai propri, dai loro contenitori, i cilindri e posizionandoli nella parte centrale. Questa è la rana, un gioco tipico delle campagne novaresi e vercellesi, erano le trattorie di quelle zone. Un antenato, potremmo dire, del moderno flipper. In cosa consiste il gioco? Nel riuscire a lanciare un gettone come questo, ad esempio, nella bocca della rana. Tutti rigorosamente distanziati, tutti con mascherina sul volto, ma con una grande voglia di vivere queste giornate con la zucca che la fa da regina, sia tra i vicoli del paese che tra le sapienti mani degli chef. Tutti i nostri visitatori hanno potuto godersi, oltre ad acquistarsela, ma anche godersi la zucca nei piatti, grazie a proposte culinarie d'eccellenza. In autunno, una delle primizie che si possono trovare sulle tavole è la zucca. La zucca è un piatto molto dolce che si abbina sul salato con del gorgonzola e sui dolci con il cioccolato fondente. Simpatica da vedere per le sue forme, buona da gustare per la sua polpa, la zucca si è guadagnata un posto di riguardo nell'immaginario collettivo, tanto da diventare la magica carrozza di Cenerentola e il simbolo della notte di Halloween. E allora, fuori di zucca per tutti!